L'ite furiosa ad amici di Maria De Filippi. Tutti sotto shock. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Come sempre, il talent show Amici non delude quando si tratta di emozioni e scontri accesi tra gli allievi. Quest'anno, tra le coppie formatesi nel corso delle edizioni, Mida e Gaia sono sicuramente una delle più seguite e apprezzate. Inizialmente, il loro legame sembrava un'amicizia salda, ma negli ultimi tempi qualcosa è andato storto. Tutto è iniziato con una lettera di Gaia a Mida, esprimendo quanto lui sia importante per lei e come si senta quando sono soli. Tuttavia, un comportamento di Mida ha scatenato un provvedimento che ha coinvolto l'intera classe di amici, creando tensioni e dispute tra i due protagonisti. Ma cosa è successo veramente? Recentemente, Rudy Zerbi ha convocato tutti gli allievi di Amici, mostrando loro un video in cui Mida discuteva di Holden e del suo insegnante. Secondo Mida, il cantante non veniva punito per la mancanza di pulizie perché è forte. Questo filmato ha portato a un provvedimento per tutta la classe, con l'eccezione di pochi allievi indicati dalla produzione come i più diligenti, oltre alle nuove arrivate. Per gli altri, è stata impostata la proibizione di utilizzare il cellulare, un castigo che, secondo la Celentano, potrebbe portare a riflessioni profonde. Gaia, dopo aver chiesto scusa a Holden, ha voluto affrontare anche Mida. La ballerina ha rivelato che Mida non avrebbe dovuto dire certe cose. In risposta, Mida ha accusato Gaia di essere eccessivamente diplomatica, ma per lui non è un difetto, bensì un desiderio di mantenere buoni rapporti con tutti. Gaia, al contrario, ha respinto questa interpretazione e ha minacciato Mida. Se dici di nuovo certe parole, ti meno, dichiara con determinazione. La ballerina voleva far capire a Mida il suo punto di vista, sottolineando che le relazioni richiedono onestà e che scusarsi con Holden era solo un modo per preservare un rapporto positivo.